fratelli bianconeri e non stiamo per partire e ci addentriamo oggi in un'altra puntata per ricordare un giocatore che ha militato per qualche anno nella juventus ma non solo ha giocato anche nel milan e nel napoli giocatore molto simpatico un giocatore che diciamo ha percorso anche una strada da commentatore televisivo del calcio di partite famosa la sua frase è stato un golasso e stiamo parlando di un personaggio simpatico bello come giose altafini altafini è stato un giocatore che ha giocato in tre squadre in italia ha giocato nella juventus ha giocato nel napoli e ha giocato nel milan se non erro la sua cronologia è stata milan napoli juventus se non mi ricordo male ma non vorrei non vorrei giurarci su questo è stato discretamente vincente non so se nella juventus ha vinto un paio di scudetti e anche una coppa non lo so sinceramente perché io come dico parlo di questi calciatori ma non mi vado a documentare quindi non è che più che altro come dico sempre questa rubrica serve a noi più attempati per ricordarci di qualche giocatore che nella nostra mente non si ricorda più della militanza in bianconero e allo stesso tempo per i più giovani per cercare di andare a vedere scoprire vedere qualche video di personaggi calciatori della juventus che hanno giocato nella juventus però di cui per loro si sono proprio perse le tracce nel senso che non sanno nemmeno chi sono molti in questo caso invece credo che giose altafini lo conoscano un po' tutti come dico ha militato in tre squadre italiane con ottimi risultati e se non mi ricordo male questo giocatore credo non so se ha vinto anche un mondiale mi pare credo è qualcosa del genere con il brasile è un giocatore altafini che era bravo di testa un giocatore anche abbastanza forte fisicamente discretamente veloce e nella juventus è stata una parentesi tra l'altro molto molto fortunata perché era un giocatore che veniva impiegato spesso da panchinaro e quando entrava in campo ragazzi faceva spesso e volentieri la differenza io mi ricordo una partita specialmente mi sembra un non so se napoli juventus o juventus napoli dove lui entrò dalla panchina e la juventus vinse proprio non so se due a uno tre a due non mi ricordo proprio questa partita tanto che quando è questo anche per dire una cosa oggi come oggi apriamo una parentesi un attimo nel calcio quando un giocatore passa all'odiata rivale juventus è sempre visto come non particolarmente bello diciamo così no quindi cosa vuol dire che quando un giocatore voi prendete l'anno scorso i guain prendete quest'anno bernardeschi prendiamo il caso eclatante di roberto maggio quando questi giocatori passarono alla juventus ci fu insurrezioni popolari ma non è un malessere di oggi c'è sempre stato voi pensate che quando questo giocatore passò dal napoli alla juventus sui cancelli a napoli dello stadio si lesse la frase altafi jose core ingrato quindi vuol dire c'è sempre stato perché perché è sempre esistita questa grande rivalità tra sud e nord e la juventus è sempre stata una squadra molto molto odiata soprattutto al sud si parla di rivalità sportiva si parla di odio sportivo ovviamente e sicuramente anche alta fine ha fatto parte di questa di questa cosa quindi è simpatico ad andare a vedere ad andare a scoprire meglio cioè alta fine alta fine era un giocatore è un giocatore stato un giocatore brasiliano veramente molto ammirato dovunque stato a giocare ripeto credo che abbia vinto anche un mondiale credo è però non ci giurerei magari vi documenterete meglio voi di me anche perché come ripeto io non amo andarmi a documentare su wikipedia cose ma io parlo di ricordi miei e questo giocatore fa parte faceva molto parte dei ricordi del mio povero papà quando lui mi diceva alta fine ce ne fossero sempre in panchina sempre stito non parlava mai però quando arrivava e castigava e sicuramente piacevole e poi non ci possiamo dimenticare del giose alta fini commentatore golasso golasso ce lo ricordiamo un pochino tutti no e fa parte di quella schiera di personaggi un po gogliardici in stile maurizio mosca forse maurizio mosca era sicuramente anche più comico per certi versi di alta fini però sicuramente che sicuramente alta fini si è fatto apprezzare anche per questo un bel personaggio un ottimo calciatore che sicuramente ha lasciato nelle tre squadre dove ha giocato in italia dei bei ricordi andiamo a scoprirlo un po' alta fini perché credo che ci sia da scoprire qualcosa di interessante soprattutto per voi più giovani perché appartiene anche lui a quel calcio degli anni 70 che nulla a che vedere con il calcio di oggi documentiamoci un po' perché non è sbagliato andare ad ammirare questi calciatori del passato è sempre una cosa molto bella voi sapete che io sono un amante del calcio che fu perché veramente per me il calcio che fu è stato quel calcio di rispetto di grande di grandi lotte di grandi arrabbiature ma che a differenza molte volte di oggi finiscono sul finivano sul campo e dopo che se ne erano date dette di tutti i colori botte da orbi alla fine della partita una stretta di mano e ci andiamo a bere una birra insieme oggi come oggi questo purtroppo succede molto raramente e lo vediamo purtroppo tutti i giorni il il calcio purtroppo oggi è cambiato quel calcio non c'è più ma sicuramente alta fine ha fatto parte di una bella fase del calcio del mondo e andiamo a scoprire un pochino meglio ripeto per noi come ricordo per i più giovani perché si scoprono sempre delle cose simpatiche ciao